Ma niente da aggiungere, se ha detto così sinceramente non l'ho sentito, però se ha detto così io sono d'accordo perché è vero che abbiamo ancora quattro punti di vantaggio, abbiamo un momento un pochino storto perché le ultime due partite, questa di oggi e la partita contro Napoli magari non sono andate bene, è vero, dobbiamo ricordare che dieci giorni fa contro la Roma abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma niente dobbiamo tornare quelli, quelli di prima, tutte le squadre hanno i suoi momenti magari un pochino più storti, per fortuna sabato ci aspetta un'altra grande occasione ed è un scontro proprio direttissimo, quindi ormai la partita di oggi fa già la storia, quindi niente bisogna prepararci per il sabato ed ecco come ha detto Pasquale trovare le cose positive, analizzare quelle negative dove dobbiamo sicuramente migliorare ed ecco andare avanti. Abbiamo già parlato qualche volta in passato di questo, ma alla fine oggi nel calcio di oggi se non difendi anche le più grandi squadre in Europa, se vedi le partite di veramente livello tipo Champions League vedi che le squadre anche tipo Real Madrid, Paris, City difendono tutti insieme partendo dai attaccanti, quindi noi anche riguardando noi quando eravamo sempre compatti abbiamo fatto bene, quindi ecco dobbiamo tornare a essere quelli, tutti compatti, tutti insieme e solo così possiamo andare avanti. No, no, sinceramente no, io ormai per me conta solo presente, è un momento, quindi non è importante per me perché a noi ci manca veramente una vittoria per riprendere il nostro cammino, riprendere la fiducia, quindi no, sicuramente non sto pensando di questo. No, ecco, come dici tu, ho giocato, è vero che ho avuto questo piacere di giocare veramente ad alti livelli, in Champions League, in Europa League, ecco con il Torino, come dici tu, ma ho anche giocato con il Torino nelle stagioni di salvezza, quindi ecco non è che abbiamo giocato sempre a questi livelli. Sì, niente, è una partita sicuramente, come ho detto prima a Sonia, un scontro direttissimo, ma dobbiamo ricordarci che il campionato non finisce il sabato, al di là del risultato, speriamo che veramente possiamo tornare con i tre punti a casa, ma il campionato è ancora lungo, abbiamo tantissimi scontri diretti, soprattutto a casa nostra, poi contro la Fiorentina, poi dopo la sosta Parma, Parma-Sassuolo, Cagliari, Crotone-Udinese, quindi veramente il campionato è lunghissimo, ovvio, come dici tu, il sabato è una partita molto importante, ma dobbiamo sapere che al di là del risultato, come ripeto, al di là come andrà, il campionato non finisce sabato, ecco. Ecco, buonasera, innanzitutto, sì, no, sicuramente la gente, quelli più esperti siamo apposta per quello, per anche nei momenti di difficoltà magari togliere un po' il peso su quei ragazzi magari che affrontano prima volta questa situazione, o magari sono prima volta in Serie A, che comunque il livello è tutto l'altro rispetto ai campionati tipo Serie B, quindi sicuramente c'è un gruppo di giocatori di esperienza qui, ecco, noi dobbiamo fare la nostra parte, a volte anche metterla la faccia in momenti come quelli che abbiamo vissuti oggi, ecco, quindi magari dare un po' di libertà ai ragazzi più giovani, ed ecco, siamo apposta per quello, quindi sicuramente sia io, Pasquale e qualche altro giocatore sicuramente faremo di tutto per fare tornare la serenità a tutto il gruppo, ecco, perché è importante, se ricordiamo anche Girone di andata contro Verona, ecco, abbiamo perso, poi abbiamo perso contro lo Spezia, anche una partita importantissima, poi siamo riusciti ad andare a Firenze e vincere, pareggiare contro la Juve in casa, quindi ecco, sono dei momenti che a volte cambiano la stagione e niente, niente, è un momento sicuramente storto, ma ripeto, sicuramente i giocatori come me, come io, come Pasquale, dobbiamo dare serenità al gruppo, ecco. Ma no, sì, no, sono d'accordissimo, come ho parlato, ripeto, con Sonia un po' tempo fa, in un momento dove anche abbiamo perso due, tre partite di fila, ecco, ci è mancato quello, perché il nostro gioco è quello, stare dietro, aspettare il contrattacco, palle inattive, ed ecco, sì, no, sicuramente c'hai ragione, questo, dobbiamo tornare a fare quello, perché quello ci ha pagato sempre e ci ha dato risultati, quindi, niente, sì, sono d'accordissimo. E sul terzo gol, se c'era il favore? Scusa, senti, non l'ho rivisto, secondo me, io comunque l'ho preso il piede, poi infatti ho sentito pure male, lo sento fino ad ora, quindi, secondo me, non lo so, ormai parlare degli arbitri, quelle decisioni magari mi stanca un po', ormai è la storia, quindi penso che parlare di decisioni arbitrali ora dopo la partita, alla fine è inutile, no? Dopo qualsiasi sconfitta, risultato storto, non è facile andare ora a casa e dormire tranquillo, sereno, io non riuscivo mai a digerire le sconfitte facili, anzi, poverina mia moglie, che a volte anche lei, per quello soffre, ma niente, sì, sono fatto così, quindi penso che nessuno di noi dopo le sconfitte non va a casa e dorme tranquillo e sereno, quindi, però niente, questa è la vita dei calciatori, degli atleti che purtroppo devi, questo sconfitte devi analizzare, digerire in fretta perché, come abbiamo parlato prima, sabato niente, è un'altra veramente grande opportunità per noi.